Per aneurisma intendiamo una patologia vascolare che porta alla progressiva dilatazione delle pareti di un'arteria. Questa dilatazione si verifica a causa della interruzione di alcune sue fibre elastiche e il vaso progressivamente aumenta di calibro. In caso particolare la orta addominale risulta essere colpita preferibilmente nel segmento inferiore. La patologia è una patologia legata a una malattia sistemica che è l'arteriosclerosi che sostituisce progressivamente queste fibre elastiche che perdono pertanto di elasticità. Vengono colpiti preferibilmente gli uomini e di età superiore ai 65 anni. L'aneurisma dell'ortodominale è una malattia tendenzialmente asintomatica cioè non dà alcun genere di disturbo. in alcuni casi può insorgere con un dolore alla schiena che spesso viene confuso con il classico mal di schiena. Proprio per questa situazione viene fatta anche la diagnosi che è una diagnosi occasionale o appunto in corrispondenza di un dolore alla schiena per cui il paziente si sottopone a una radiografia della colonna oppure tramite una ecografia addominale. L'evoluzione della malattia aneurismatica è una evoluzione verso a stadi successivi di dilatazione che portano poi inevitabilmente alla rottura dell'aneurisma. Evento drammatico, determinante uno shock e spesso causa di mortalità. È indispensabile pertanto che i pazienti vengano sottoposti a terapia adeguata prima che questa situazione si verifichi. Il trattamento della patologia aneurismatica dell'ortodominale non è un trattamento di tipo medico è una patologia chirurgica e come tale deve essere trattata. Gli interventi tradizionali sono l'intervento di aneurismectomia, un intervento open, cioè di apertura dell'addome e di sostituzione della parte di aorta malata. È un intervento che è impegnativo per il paziente, è un intervento che richiede un'anestesia generale e un trattamento in postoperatorio in terapia intensiva. Da molti anni ormai si utilizza delle tecniche endovascolari che hanno permesso di poter allargare il trattamento a tutta un'altra popolazione che prima non poteva accedere o per questioni di età o per patologie concomitanti al trattamento dell'aneurisma dell'ortodominale. Il trattamento endovascolare prevede un'anestesia di tipo locale e attraverso due incisioni praticate a livello dell'inguine introdurre una endoprotesi che viene portata e posizionata correttamente attraverso una scopia che viene praticata con un arco C come questo che ho alle spalle in una sala operatoria ibrida e questa ci permette di posizionare al millimetro l'endoprotesi che andrà a rimpiazzare il vaso malato. Praticamente l'aneurisma resta sempre nella stessa sede, il flusso del sangue passerà all'interno dell'endoprotesi, la pressione non verrà più esercitata sulla parete malacica e pertanto avremo risolto il problema della rottura.